Allora, oggi ho avuto un pacco, è pareto che si ricevono tanti pacchi e vediamo qua cosa contiene. Scusatemi al sole negli occhi, una bellissima giornata qua a Roma, come potete vedere, questa qua è la visione di casa mia, un po' pasoliniana, mio padre è sempre catalizzato sui treni, il mio balcone. Allora, vediamo cosa c'è, questo è il pacco, apriamo insieme. Cucu, eccolo qua. Ciao, ciao, piacere, piacere. Buongiorno, buongiorno, è in attesa di avere un nome, sta passando un treno e vi presento la new entry, la metto via, ombretta il gatto, ombretta? Scusate. Ombretta? Ombretta? Vediamo come si comporta. Il vecchio coniglio lo accettava bene, ma siccome... ombretta, non ti far venire nessuna idea perché ne prendi. Ti faccio un altro mash, eh. miau, 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 miau. Ciao, ombretta, saluto.